ok ciao bello come stai? salutiamo Ciro Moriello dagli Stati Miti, organizzatori di questo splendido spettacolo ciao Ciro un saluto a tutti a posto devo andare stiamo per incominciare ci parliamo dopo dopo lo spettacolo chiamateli saluti a tutti e ringraziami tutto e i miti stanno andando forte alle prove è andato fortissimo ok grazie un saluto andiamo se posso riprendere qualcosa dello spettacolo ti chiamo ok ciao 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 ciao